Il conto alla rovescia sta per finire, domenica si parte, comincia il campionato, sono finiti, gli allenamenti congiunti sono finite, le amichevoli si cominciano a fare sul serio. Adesso dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo fatto in questa preparazione e penso che siamo pronti a dimostrare ciò per cui abbiamo lavorato. Un'emozione particolare sarà per Vittorio Butera poter giocare in Serie A con la squadra della sua città, per te sarà un'emozione un po' più sentita rispetto a quella degli altri? Sì, diciamo che è una sensazione un po' unica in confronto agli altri perché giocare in Serie A nella propria città è una cosa fantastica, è un sogno che si realizza e speriamo che va tutto bene soprattutto dall'inizio. Un traguardo importante per Vittorio Butera è che la Serie A l'ha vista la Mezzia quando era ragazzino? Sì, sì, parecchi anni fa, però speriamo che adesso riusciamo a mantenere alto il nome di la Mezzia e fare gare di alto livello. Che campionato potrà fare questa squadra? Quali sono le ambizioni secondo te? Allora, noi siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere tanto e quindi ognuno di noi deve dare il massimo sia all'allenamento, soprattutto in allenamento perché da lì poi esce tutto quanto in partita. Con una squadra giovane abbiamo grandi margini di miglioramento, quindi anche se ci saranno difficoltà durante l'anno, noi sappiamo che possiamo crescere e possiamo fare sempre di più. Le tue aspettative personali? Personalmente io cerco di dare il massimo contributo alla squadra e quando c'è bisogno sarò sempre presente e risponderò sempre.